direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi giovedì 27 giugno l'estrazione straordinaria con un'estate a mille oltre ai premi tradizionali saranno infatti assegnati i 250 premi garantiti da 10.000 euro messi in palio dall'iniziativa speciale di super enalotto superstar vi ricordo che è possibile partecipare a questa iniziativa anche nei prossimi concorsi di venerdì 28 e sabato 29 giugno e ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi giovedì 27 giugno 40 milioni 545 mila 589 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 101 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 28 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 80 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 13 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 63 e adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 85 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 76 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 21 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 28 80 13 63 85 76 numero jolly 21 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre sì perché superstar moltiplica le vincite super in all'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti eccolo il numero superstar estratto questa sera è il numero 54 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 101 con la sestina vincente in ordine crescente 13 28 63 76 80 85 numero jolly 21 numero superstar 54 l'estrazione di oggi giovedì 27 giugno termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 40 milioni 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore la commissione di controllo sta effettuando le procedure di estrazione dei 250 codici alfanumerici del valore di 10 mila euro ciascuno dell'iniziativa un'estate a mille i codici vincenti saranno disponibili dopo la mezzanotte sul sito superenalotto.it tanta felicità a tutti i fortunati vincitori ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 101 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del superenalotto assegna 320 mila 656 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 40 milioni 500 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di superenalotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 41 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 e nessun 5 più 1 i 5 sono 3 e vincono 57.260 euro ciascuno i 4 sono 320 e vincono 663 euro ciascuno i 3 sono 15.195 e vincono 37 euro ciascuno e i 2 sono 266.143 e vincono 6 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 217.316 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella si aggiudica 66.343 euro i 3 stella sono 90 e vincono 3712 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1532 2 stella 10 euro agli 11.010 1 stella e 5 euro ai 26.362 0 stella inoltre 103 vincite da 50 euro ciascuna e 15.503 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate alle combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Super Enalotto verifica vincite l'app è disponibile per tutti gli smartphone per maggiori informazioni consultate il sito superenalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a domani venerdì 28 giugno giocheremo per un jackpot di 41 milioni 100 mila euro per conoscere i 250 codici vincenti dell'iniziativa speciale di Super Enalotto Superstar visitate il sito superenalotto.it i dati saranno disponibili dopo la mezzanotte arrivederci